le avventure di pinocchio di carlo collodi letto da libri in pillole capitolo 18 pinocchio ritrova la volpe il gatto e va con loro a seminare le quattro monete nel campo dei miracoli come potete immaginarvelo la fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera e lo fece per dargli una severa lezione perché si correggesse dal brutto vizio di dire bugie il più brutto vizio che possa avere un ragazzo ma quando lo vide trasfigurato e con gli occhi fuori della testa dalla gran disperazione allora mossa a pietà batte le mani insieme e a quel segnale entrarono in camera dalla finestra un migliaio di grossi uccelli chiamati picchi i quali posatisi tutti sul naso di pinocchio cominciarono a beccarglielo tanto e poi tanto che in pochi minuti quel naso enorme e spropositato si trovò ridotto alla sua grandezza naturale quanto siete buona fata mia disse il burattino asciugandosi gli occhi e quanto bene vi voglio ti voglio bene anch'io rispose la fata e se tu vuoi rimanere con me tu sarai mio fratellino e io la tua buona sorellina io resterei volentieri ma ma il mio povero babbo ho pensato a tutto il tuo babbo è stato di già avvertito e prima che faccia notte sarà qui davvero gridò pinocchio saltando dall'allegrezza allora fatina mia se vi contentate vorrei andargli incontro non vedo l'ora di poter dare un bacio a quel povero vecchio ha sofferto tanto per me vai pure ma bada di non ti sperdere prendi la via del bosco e sono sicurissima che lo incontrerai pinocchio partì e appena entrato nel bosco cominciò a correre come un capriolo ma quando fu arrivato a un certo punto quasi in faccia alla quercia grande si fermò perché gli parve di aver sentito gente fra mezzo alle frasche difatti vide apparire sulla strada indovinate chi la volpe e il gatto ossia i due compagni di viaggio coi quali aveva cenato all'osteria del gambero rosso ecco il nostro caro pinocchio gridò la volpe abbracciandolo e baciandolo come mai sei qui come mai sei qui ripete il gatto è una storia lunga disse il burattino e ve la racconterò a comodo sappiate però che l'altra notte quando mi avete lasciato solo sull'osteria ho trovato gli assassini per la strada gli assassini o povera mio e che cosa volevano e mi volevano rubare le monete d'oro infami disse la volpe infamissimi ripete il gatto ma io cominciai a scappare continuò a dire il burattino e loro sempre dietro finché mi raggiunsero e mi piccarono a un ramo di quella quercia e pinocchio accennò la quercia grande che era lì a due passi si può sentir di peggio disse la volpe in che mondo siamo condannati a vivere dove troveremo un rifugio sicuro noi altri galantuomini nel tempo che parlavano così pinocchio si accorse che il gatto era zoppo dalla gamba destra davanti perché gli mancava in fondo tutto lo zampetto con gli unghioli per cui gli domandò che cosa hai fatto del tuo zampetto il gatto voleva rispondere qualche cosa ma si imbrogliò allora la volpe disse subito il mio amico è troppo modesto è per questo che non risponde risponderò io per lui sappi dunque che un'ora fa abbiamo incontrato sulla strada un vecchio lupo quasi svenuto dalla fame che ci ha chiesto un po' dell'emosina noi non avendo noi da dargli nemmeno una lisca di pesce che cosa ha fatto all'amio mio che ha davvero un cuore di cesare si è staccato coi denti uno zampetto delle sue gambe davanti e l'ha gettata quella povera bestia perché potesse sdigiunarsi e la volpe nel dir così si asciugò una lacrima pinocchio commosso anche lui si avvicinò al gatto sussurrandogli negli orecchi se tutti i gatti ti somigliassero fortunati topi e ora che cosa fai in questi luoghi domandò la volpe al burattino aspetto il mio babbo che deve arrivare qui di un momento all'altro e le tue monete d'oro l'ho sempre in tasca a meno una che la spesi all'osteria del gambero rosso e pensare che invece di quattro monete potrebbero diventare domani mille e duemila perché non da retta al mio consiglio perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli oggi è impossibile vianderò un altro giorno un altro giorno sarà tardi disse la volpe perché perché quel campo è stato comprato da un gran signore da domani in là non sarà più permesso a nessuno di seminarvi i denari quanto è distante di qui il campo dei miracoli due chilometri appena vuoi venire con noi fra mezz'ora sei là e semini subito le quattro monete e dopo pochi minuti ne raccogli duemila e stasera ritorni qui con le tasche piene vuoi venire con noi pinocchio esitò un poco a rispondere perché gli tornò in mente la buona fata il vecchio geppetto e gli avvertimenti del grillo parlante ma poi finì col fare come fanno tutti i ragazzi senza un fil di giudizio e senza cuore finì cioè col dare una scrollatina di capo e disse alla volpe al gatto andiamo pure io vengo con voi e partirono dopo aver camminato una mezza giornata arrivarono a una città che aveva nome a chiappa citrulli appena entrato in città pinocchio vide tutte le strade popolate di cani spelacchiati che sbadigliavano dall'appetito di pecore tosate che tremavano dal freddo di galline rimaste senza cresta e senza bargigli che chiedevano l'elemosina ad un chicco di gran turco di grosse farfalle che non potevano più volare perché avevano venduto le loro bellissime ali colorite di pavoni tutti scodati che si vergognavano a farsi vedere e di fagiani che zampettavano cheti cheti rimpiangendo le loro scintillanti penne d'oro e d'argento ormai perdute per sempre in mezzo a questa folla di accattoni e di poveri vergognosi passavano di tanto in tanto alcune carrozze signorini con dentro o qualche volpe o qualche gazaladra o qualche uccellaccio di rapina il campo dei miracoli dov'è domandò pinocchio e qui a due passi detto fatto traversarono la città e usciti fuori dalle mura si fermarono in un campo solitario che su per giù somigliava a tutti gli altri campi eccoci giunti disse la volpe al burattino ora chinati giù a terra e scava con le mani una piccola buca nel campo e mettici dentro le monete d'oro pinocchio obbedì scavò la buca ci pose le quattro monete d'oro che gli erano rimaste e dopo ricoprì la buca con un po' di terra ora poi disse la volpe vai alla gora qui vicina prendi una secchia d'acqua e annaffia il terreno dove è seminato pinocchio andò alla gora e perché non aveva lì per lì una secchia si levò di piedi una ciabatta e riempita la d'acqua annaffiò la terra che copriva la buca poi domandò c'è altro da fare nient'altro rispose la volpe ora possiamo andar via tu poi ritornami fra una ventina di minuti e troverai l'alboscello già spuntato dal suolo e coi rami tutti carichi di monete il povero burattino fuori di seda la contentezza ringraziò mille volte la volpe e il gatto e promise loro un bellissimo regali noi non vogliamo regali risposero quei due malanni a noi ci basta di averti insegnato il modo di arricchire senza durare fatica e siamo contenti come pasque ciò detto salutarono pinocchio e augurandogli una buona raccolta se ne andarono per i fatti loro